Si nascondeva in una scuola abbandonata alla periferia di Castellaneta in provincia di Taranto. La polizia ha arrestato un 51enne pluripregiudicato di origine in Bulgare sul quale pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione per i reati di riduzione, mantenimento in schiavitù, tratta e commercio di schiavi. All'alba del 17 agosto gli investigatori lo hanno trovato mentre dormiva in una brandina senza materasso, il suo furgone parcheggiato all'esterno, con sé 4.000 euro in banconote, 4 carte di debito intestate a due persone diverse, un banco matto, un assegno bancario di 200 euro, un telefono cellulare nel vano portaoggetti del furgone, altri 10.000 euro. L'uomo aveva anche una patente di guida con la propria foto ma intestata a un'altra persona, a testimonianza del fatto evidenzia la polizia, che utilizzava in base alle circostanze più nominativi al fine di sottrarsi alla giustizia. Al successivo controllo in banca dati è emerso infatti che l'uomo aveva diversi alias, il 51enne portato nel carcere di Taranto è stato quindi denunciato per ricettazione. Nella giornata del 16 agosto i carabinieri della compagnia di Taranto, con l'ausilio del NAS e del NIL del capologo ionico, nonché di personale della polizia locale, hanno denunciato un 39enne, il quale sulla spiaggia sottostante al lungomare di Taranto avrebbe aperto un chiosco abusivo. Nella stessa attività priva di autorizzazioni, rinvenute bevande di vario tipo, anche alcoliche. Nel corso dello stesso servizio i militari dell'arma hanno controllato un altro chiosco abusivo sulla Circummar Piccolo, riscontrando carenze igienico-sanitarie e mancanza di documentazione commerciale. L'attività gestita da un quarantenne tarantino è stata sospesa.